A tutte le unità, 1199, serve copertura codice 3B, commenta l'ospita. 184, ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto, 184. Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave. Una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già sei unità sul posto. 1, 3, 1, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scantolo. Comunque, fa venire i brividi, no? 1, 2, 7, 1, 2, 4, rispondete. Joseph, pensi ci sia un collegamento? È una possibilità? Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Passo. 184, attenzione. Non riusciamo a costruire via ratti. Le unità alti. Qualcuno mi... Oh, cazzo! Cristo! Detective Kidman. Hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Cosa ne pensi? Connelly, contatta la centrale e aggiornali. Joseph Kidman, con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Odore di sangue. Bene, stiamo allerta. Noi andiamo a controllare, non far passare nessuno da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci. Sentito qualcosa? È ferito. Cos'è successo? Non può essere impossibile. Ruvik è... Penso io a lui. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. Ma che dievolo. Cos'è... Cos'è... ... A presto. 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 Wow! Oh, Rick! No! Grazie a tutti 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 Ehi, dov'è Joseph? Mi spiace, ma è rimasto dentro L'avrei aspettato, ma... Adesso calmati, Leslie Malta, non si torna indietro No... Grazie. Muerta. Cazzo. Non ci sente nessuno? Saranno tutti morti. Tutto bene lì dietro? Qualche scossone, ma tutto ok. Ok, ok. Sarà tutto ok una volta via da qui. Tra poco saremo al sicuro. Ok, 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 no, no! Attento! Ma che no! 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 No!